Ora io dico, per tutto il tempo in cui l'erede è minorenne, in niente differisce da uno schiavo, pur essendo padrone di tutto, ma è sottoposto a tutori e ad amministratori fino al giorno stabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo minorenni, stavamo sottoposti agli elementi del mondo in uno stato permanente di schiavitù. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio inviò il figlio suo, nato da una donna, sottomesso alla legge, affinché riscattasse coloro che erano sottoposti alla legge, affinché ricevessimo l'adozione a figli. Poiché siete figli, Dio inviò lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, il quale grida, Abba, padre, e così non sei più schiavo, ma figlio, se figlio sei anche erede per volontà di Dio. Un tempo, non avendo conosciuto Dio, serviste come schiavi a dei che in realtà non lo sono. Ora invece, avendo conosciuto Dio, o piuttosto essendo stati conosciuti da Dio, come potete rivolgervi di nuovo verso gli elementi senza forza e meschini ai quali volete di nuovo tornare a sottomettervi come schiavi? Osservate le prescrizioni riguardanti i giorni, i mesi, le stagioni e gli anni. Mi fate temere di essermi affaticato in vano in mezzo a voi. Diventate come me, poiché anch'io sono come voi, fratelli, ve ne supplico. Non mi faceste alcun torto. Sapete che a causa di una infermità fisica annunciammo il Vangelo a voi per la prima volta. E per quello che costituiva per voi una prova nel mio fisico, non dimostraste disprezzo né nausea, ma accoglieste me come un inviato di Dio, come Gesù Cristo stesso. Dov'è dunque adesso il vostro entusiasmo di allora? Vi do atto che se fosse stato possibile vi sareste strappati gli occhi e me li avreste dati. Vi sono forse diventato nemico dicendovi la verità? Mostrano un interesse acceso per voi, però non rettamente, ma vi vogliono isolare da noi, affinché abbiate interesse per loro. E' bello avere un interesse vivo per il bene, sempre e non solo quando io sono presente tra voi, figli miei, per i quali soffro di nuovo le doglie del parto, fino a che Cristo non sia formato in voi. Vorrei proprio essere presso di voi ora e parlarvi a tu per tu, poiché sono ansioso nei vostri riguardi. Ditemi, voi che volete stare sotto la legge, non ascoltate ciò che dice la legge? E' stato scritto infatti che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello avuto dalla schiava è nato secondo la carne, mentre quello avuto dalla donna libera è nato in virtù della promessa. Tali cose sono dette in termini simbolici. Le due donne sono le due alleanze. Una proviene dal monte Sinai, genera i figli per la schiavitù, ed è Agar. Ma Agar significa il monte Sinai. Questo sta in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme di adesso, che di fatti si trova in stato di schiavitù con i figli suoi. La Gerusalemme celeste, invece, è libera. Essa è la nostra madre. Sta scritto infatti Rallegrati, sterile che non partorisci, prorompi in grida di gioia tu che non soffri i dolori del parto, poiché molti sono i figli della donna che è sola, più di colei che ha marito. Ma voi, fratelli, siete figli della promessa, come Isacco. Ma come allora quello che era nato secondo la carne, perseguitava quello nato secondo lo spirito, così accade anche adesso. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il figlio di lei. Infatti, il figlio della schiava non avrà parte all'eredità con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Per la libertà, Cristo ci liberò. State dunque saldi e non lasciatevi sottomettere di nuovo al gioco della schiavitù. Ecco, sono io, Paolo, che ve lo dico. Se vi lasciate circoncidere, Cristo non vi sarà di utilità alcuna. Attesto di nuovo ad ogni uomo che viene circonciso. Egli è obbligato a mettere in pratica tutta la legge. Non avete più niente a che fare con Cristo. Voi che cercate di essere giustificati con la legge, siete decaduti dal favore divino. Infatti, noi, sotto l'influsso dello spirito, aspettiamo la speranza della giustificazione per mezzo della fede. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione, né l'incirconcisione hanno alcun effetto. Ma la fede è operante mediante la carità. Correvate bene. Chi vi ha ostacolato, impedendovi di obbedire alla verità? Questa persuasione non proviene da colui che vi chiamò. Una piccola quantità di lievito fermenta tutta la massa della pasta. Quanto a voi, io sono persuaso nel Signore che voi non penserete affatto diversamente da me. Chi può emettere lo scompiglio tra di voi subirà la condanna, chiunque egli sia. E quanto a me, se io predicassi ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Allora lo scandalo della croce sarebbe eliminato. Si mutilino pure del tutto coloro che mettono scompiglio fra di voi. Infatti voi, fratelli, siete stati chiamati alla libertà. Soltanto non dovete servirvi della libertà come di un pretesto per la carne, ma per mezzo della carità siate gli uni schiavi degli altri. Poiché la legge trova la sua pienezza in una sola parola, e cioè amerai il tuo prossimo come te stesso. Se poi vi mordete e divorate a vicenda, vedete di non distruggervi gli uni gli altri. Ora vi dico, camminate sotto l'influsso dello spirito, e allora non eseguirete le bramosie della carne. La carne infatti ha desideri contro lo spirito, lo spirito a sua volta contro la carne, poiché questi due elementi sono contrapposti vicendevolmente, cosicché voi non fate ciò che vorreste. Ma se siete animati dallo spirito, non siete più sotto la legge. Ora le opere proprie della carne sono manifeste. Sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, lite, gelosia, ire, ambizioni, discordie, divisioni, invidie, ubriachezze, orge e opere simili a queste. Riguardo ad esse vi metto in guardia in anticipo, come già vi misi in guardia. Coloro che compiono tali opere non avranno in eredità il regno di Dio. Invece il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, longanimità, bontà, benevolenza, fiducia, mitezza, padronanza di sé. La legge non ha a che fare con cose del genere. Coloro che appartengono al Cristo Gesù crocifissero la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo in forza dello spirito, camminiamo seguendo lo spirito. Non diventiamo avidi di una gloria vuota, sfidandoci a vicenda, invidiandoci gli uni gli altri. Fratelli, anche quando uno si è sorpreso a commettere una colpa, voi che siete guidati dallo spirito, correggete costui con spirito di mitezza. E tu abbi cura di te stesso, perché non abbia a soccombere tu pure nella tentazione. Portate vicendevolmente i vostri pesi, così compirete la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, mentre non è nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece il suo operato, e allora troverà soltanto in se stesso motivo di vanto, e non nell'altro. Ciascuno, infatti, dovrà portare il proprio fardello. Colui che viene istruito nella parola partecipi i suoi beni a quello che lo istruisce. Non vi ingannate. Dio non permette che ci si prenda gioco di lui. L'uomo mieterà ciò che avrà seminato. Chi semina seguendo la carne, dalla carne mieterà rovina. Chi invece semina seguendo lo spirito, dallo spirito mieterà la vita eterna. Facendo il bene, non lasciamoci prendere da noia o stanchezza. A tempo debito mieteremo, se non allenteremo il nostro impegno. Perciò, finché ne abbiamo l'occasione propizia, pratichiamo il bene verso tutti, ma soprattutto verso coloro che appartengono alla nostra stessa famiglia della fede. Notate con che grossi caratteri vi scrivo di mia mano. Quanti vogliono far bella figura seguendo la carne, questi cercano di costringervi a farvi circoncidere, solo per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Infatti, nemmeno coloro che si fanno circoncidere osservano personalmente la legge, ma vogliono che voi vi circoncidiate al solo scopo di avere un vanto sulla vostra debolezza. A me non avvenga mai di menar vanto se non nella croce del nostro Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo è stato crocifisso per me e io per il mondo. Infatti, né la circoncisione, né la mancanza di essa sono alcunché, ma la nuova creazione. E quanti seguiranno questa regola? Pace e misericordia su di loro e sull'Israele di Dio. Del resto, nessuno mi infastidisca. Io infatti porto nel mio corpo i contrassegni di Cristo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia col vostro spirito, fratelli. Io infatti porto nel mio corpo i contrassegni di Cristo. Io infatti porto nel mio corpo i contrassegni di Cristo. Io infatti porto nel mio corpo i contrassegni di Cristo. Io infatti porto nel mio corpo i contrassegni di Cristo. Io infatti porto nel mio corpo i contrassegni di Cristo. Io infatti porto nel mio corpo i contrassegni di Cristo. Io infatti porto nel mio corpo i contrassegni di Cristo. Grazie a tutti